Alfano non ha responsabilità, non si tocca, è colpa dei burocrati. Sul caso Abliazov interviene Silvio Berlusconi in difesa del ministro dell'interno e ribadisce la stabilità del governo. L'ex capo di gabinetto Procaccini, dopo aver rassegnato le dimissioni, rivela. Informai Alfano dopo l'incontro con l'ambasciatore, ma non sapevo che Abliazov fosse un dissidente. Poco fa però ha fatto sapere Procaccini nessuna contraddizione, con il ministro mi riconosco nella sua ricostruzione. Venerdì il voto di sfiducia di Selle e Movimento 5 Stelle, un'altra insidia per il governo. I renziani orientati a sostenere la mozione, la Lega invece contraria. Nuovi guai per Roberto Calderoli sull'offesa rivolta al ministro Chiang. La procura di Bergamo lo iscrive nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è quello di diffamazione aggravata da odio razziale. Ieri l'esponente leghista ribadendo le scuse al ministro e alle istituzioni. Aveva detto in Senato non mi dimetto. Il caso Abliazov si ripercuote sul Partito Democratico. Matteo Renzi chiede al premier, impegnato in una 48 ore londinese, di riferire in Parlamento. Tra i due ci sarebbe stato uno scandio di sms e telefonate particolarmente tese. Interviene il segretario Epifani che al sindaco di Firenze, al PDL, dice il governo non può essere sottoposto a fibrillazioni e ad ostacoli quotidiani. Ed aggiunge anche Letta sarà candidato premier. Svolta clamorosa nell'inchiesta su Fonsai. Questa mattina è finita gli arresti praticamente l'intera famiglia Ligresti, Salvatore e domiciliari, i tre figli Giulia, Ionella e Paolo. Le ipotesi di reato sono falso, aggravato in bilancio, avrebbero occultato un buco di circa 600 milioni di euro, provocando gravi danni ad almeno 12 mila risparmiatori. Dossier illegali, condannato a 20 mesi, Marco Tronchetti Provera. E sono numeri drammatici quelli forniti dall'Istat sulla povertà in Italia, che con la crisi cresce a livelli record. Nel 2012 le persone povere sono oltre 9 milioni e mezzo, quasi il 16% della popolazione. Un dato che dal 2011 è cresciuto di oltre il 2%. Tra queste la metà, 4 milioni e 814 mila, persone vivono in povertà assoluta. Mai così dal 2005. E buongiorno dal Telegiornale della Sette, benvenuti a questa edizione del Telegiornale, che vede in primo piano un passaggio politico molto delicato, così come quello della vicenda Cazzaca, con il PDL che fa quadrato intorno al ministro dell'Interno Alfano e il governo Letta, individuando, questa è la versione del PDL, in questa operazione una sorta di macchinazione per far cadere proprio il governo. Secondo Alfano, un vero e proprio cortocircuito informativo nei servizi preposti a diffondere informazioni avrebbe impedito che questa vicenda fosse portata alla conoscenza dei vertici dell'esecutivo. Alfano non ha nessuna colpa e non si tocca né lui né il governo. Berlusconi alla fine rompe il silenzio sul caso che lui stesso definisce scabroso. dell'espulsione in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia di sei anni. Non vedo nulla che possa provocare una crisi, dice l'ex premier, in un colloquio con il Corriere della Sera. Con tutti i problemi che ha il paese, sottolinea, sarebbe dai responsabili far saltare Alfano per far saltare il governo. Berlusconi smentisce così le voci che lo volevano pronto a mollare il suo delfino, poco amato dentro il PDL, criticatissimo per il triplo incarico di segretario del partito, ministro dell'Interno e vicepremier. Ma il Cavaliere ribadisce piena fiducia in Alfano, mentre il caso Kazako viene attribuito tutto alla responsabilità di una burocrazia che prevale e prescinde dalla politica e i quattro magistrati che hanno avvarlato l'espulsione. Io poi non c'entro nulla con questo Nazarbayev, nega Berlusconi i rapporti con l'uomo forte di Astana e non l'ho visto in Sardegna come è stato scritto. Minimizzare resta la parola d'ordine nel PDL. Resta una vicenda che, come dire, non credo giustifichi la caduta del governo Letta e non debba essere, come dire, utilizzata per creare un clima di balcanizzazione, di instabilità politica. Ma non sapevo di Alfano ieri al Senato la ricostruzione del caso Bliazov che le opposizioni, ma anche molti nel PD, vedi Cuperlo, definiscono insoddisfacente e lacunosa. Non basta calmare le acque. Venerdì il voto sull'emozione di sfiducia di Selle e Cinque Stelle. Forse parlerà Letta, come chiedono a gran voce fuori, ma anche dentro alla maggioranza. La Lega si sfila per ragioni evidentemente di alleanza politica con il PDL nelle regioni del Nord. Maroni, che aveva attaccato Alfano, ci ripensa. Non voteremo la sfiducia. La sua versione ci ha convinti, annuncia. Ma i malumori, invece, nel Partito Democratico sono sempre più forti. I renziani sono tentati dal voto contro Alfano e potrebbero chiedere al gruppo PD di sostenere la richiesta. La riunione dei senatori è slittata domani in contemporanea con la riunione dei deputati. Su questa vicenda il partito non regge, dicono in molti. Si parla di pressioni forti per convincere Alfano a lasciare, a dimettersi del Viminale, restando magari vicepremier. A questo scopo si cercano sponde anche con il Quirinale. Difficile, però, salvare capra e cavoli. Perché se cade Alfano, ripete per ora Berlusconi, cade il governo. Mi dimetto per il bene dell'amministrazione, sono un uomo dello Stato. Queste sono le parole di Giuseppe Procaccini, l'ex capo di gabinetto, mentre appare anche sulla stampa estera come una sorta di caprio espiatorio della vicenda kazaka. Delle richieste dei kazaki informai subito il ministro Lascio per senso del dovere, per rispetto del mio ruolo e dello Stato. Il prefetto Giuseppe Procaccini, capo di gabinetto del Viminale, si è dimesso, ma le sue parole, riportate da alcuni quotidiani, rischiano di creare più di qualche imbarazzo all'esecutivo, il giorno dopo la informativa in Parlamento del ministro Alfano e la sua ricostruzione dei fatti sulla vicenda kazaka. Dopo tanti anni di carriera vado via, ma sono stato ingiustamente offeso ha scritto Procaccini nella lettera di dimissioni consegnata nelle mani del ministro poche ore prima che il capo della polizia Pansa trasmettesse la sua relazione sull'espulsione di Alma Shalabayeva. Ho ricevuto l'ambasciatore kazako al Viminale perché me lo chiese il ministro spiegandomi che era una cosa delicata, avrebbe detto Procaccini. In una intervista pubblicata oggi su Repubblica precisa il 29 maggio informai verbalmente il ministro che la diplomazia del Kazakistan aveva chiesto l'arresto di un pericoloso latitante Mukhtar Abliazov. Una versione dei fatti che almeno su questo punto sembrerebbe contraddire quella che Alfano ha fornito in Parlamento sulla scorta della relazione del capo della polizia Pansa. Poco fa Procaccini ha detto nessuna contraddizione con il ministro Alfano mi riconosco nella sua veritiera ricostruzione. Nelle conclusioni del documento di Pansa è scritto il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha seguito in tutte le sue fasi il processo stimolato dalle autorità diplomatiche kazakhe che avrebbero voluto investirne direttamente il ministro ma che erano riuscite a raggiungere solo il suo capo di gabinetto. Il passaggio avvalora la tesi che Alfano non fosse mai stato contattato nemmeno nella fase iniziale. Lo stesso Procaccini aggiunge non sapevo che Abliazov fosse un dissidente politico e dopo l'esito negativo del blitz a Casalpalocco nessuno nemmeno il capo della segreteria Valeri incaricato di seguire la vicenda mi parlò dell'espulsione di Alma Shalabaieva e della figlia una pratica gestita dall'ufficio immigrazione dell'esito della vicenda conclude Procaccini appresi solo dai giornali comunque sia andata una cosa è certa nei corridoi del Viminale e nelle stanze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza si respira un clima di tensione e disagio le dimissioni di Procaccini l'avvicendamento di Valeri e gli altri provvedimenti di riorganizzazione chiesti da Alfano e affidati al capo della Polizia Panza sono visti da più parti come il sacrificio di capri espiatori in nome della ragione di Stato a rischio ci sono le carriere di dirigenti e funzionari che negli ultimi anni hanno conquistato posizioni di grande rilievo nei posti chiave del Dipartimento e finisce in tribunale il caso delle offese di Calderoli rivolte al ministro Chiang il vicepresidente del Senato leghista è indagato è indagato per violazione della legge Mancino sulla discriminazione razziale e sulla vicenda poi ancora scontro aperto tra Maroni e Letta dopo lo scandalo politico il caso dell'insulto razzista di Calderoli alla Chiang diventa un affare giudiziario il vicepresidente leghista del Senato è sotto inchiesta per il paragone del ministro congolese con un orango è stato iscritto stamattina nel registro degli indagati della procura di Bergamo il reato ipotizzato è diffamazione aggravata dall'odio razziale il fascicolo è stato assegnato a due pubblici ministeri Rota e Dettori Calderoli rischia fino a quattro anni e mezzo di carcere i magistrati procedono d'ufficio senza querela di parte la Chiang non ha mai denunciato il parlamentare del carroccio ieri per tutto il giorno la procura ha studiato la relazione del commissariato di Treviglio e l'esposto del Kodakons sul comizio di sabato sera con l'offesa di Calderoli oggi l'iscrizione Calderoli ieri mattina si è pubblicamente scusato in senato con la Chiang ha spiegato ai colleghi che le sue dichiarazioni non avevano un intento razziale né razzista ha respinto la richiesta di dimissioni ha detto che lo avrebbe fatto solo se glielo avesse chiesto il partito la Lega lo ha difeso e sulla vicenda è scoppiato un caso politico fra il segretario del carroccio Maroni e il primo ministro Letta il premier ha spiegato che l'incidente non è chiuso e che se Calderoli resterà al suo posto il governatore leghista sarà correo dell'offesa alla Chiang Maroni stamattina a Varese ha replicato non diciamo stupidaggini per me la questione è chiusa e Letta farebbe meglio a occuparsi di altre cose e la stabilità del governo ma è come in questo momento è legata a doppio filo anche alle vicende interne del partito democratico dove il sindaco di Firenze Matteo Renzi continua a menare colpi colpi che non risparmiano la vicenda cazzaca l'attivismo di Matteo Renzi comincia a spazientire Palazzo Chigi anche se dallo staff del premier Enrico Letta impegnato nella due giorni londinese stamani non conferma non esmentiscono in retroscena di giornata che parlano addirittura di un litigio telefonico tra il presidente del consiglio e il sindaco di Firenze sembra che a far saltare i nervi al capo del governo sia stata l'ultima sortita dell'ex rottamatore che a proposito della controversa vicenda cazzaca ha detto di aspettarsi chiarezza direttamente da Letta ci metta la faccia e vada in aula a dire se davvero il ministro Alfano lo ha convinto o no il ragionamento fatto dal sindaco fiorentino parole che suonano alle orecchie del premier quasi come una dichiarazione di guerra un fuoco amico insostenibile per la stabilità già precaria dell'esecutivo di larghe intese la tenuta del governo mai come in questo momento sembra legata a doppio filo con la sfida congressuale ed autunno tutta interna ai democratici un intreccio perverso secondo alcuni esponenti del partito ai piani alti del Nazareno monta l'insofferenza nei confronti dell'ex rottamatore tutto già proiettato verso la scalata al partito malgrado ancora non abbia sciolto la riserva e pronto secondo alcuni a capitalizzare al massimo l'insofferenza della base verso il governo con il PDL in vista appunto della sfida congressuale in quest'ottica la mozione di sfiducia contro Alfano venerdì al senato potrebbe tentare più di qualche democrat e non solo tra le fila dei cosiddetti renziani ecco perché fiutato il pericolo e lo stesso segretario Epifania di intervenire con fermezza a difesa di Letta il suo è un governo di servizio ma tirare a campare non fa bene al paese spiega quindi basta mettere ostacoli quotidiani al suo cammino anche perché ed è questo il passaggio più rilevante dell'intervista a Repubblica lo stesso Letta potrebbe essere il prossimo candidato premier il messaggio è duplice rivolto ai falchi del PDL ma soprattutto al primo cittadino di Firenze Pippo Civati anche lui in corsa per la segreteria PD stamani ad Omnibus lo dice chiaramente il vero problema è il duello tra Letta e Renzi futuri competitor per la premiership non è un mistero del resto che i maggioranti del PD remino contro il sindaco di Firenze la battaglia si gioca sul terreno minato delle regole domani torna riunirsi il comitato per il congresso che dovrebbe concludere il lavoro istruttorio con le soluzioni che saranno poi messe ai voti nella direzione nazionale del prossimo 31 luglio il bersagnano Davide Zoggia responsabile dell'organizzazione insiste sulla cancellazione dell'automatismo tra segretario e candidato premier protestano gli uomini vicini a Renzi Epifani intanto conferma che lo statuto verrà cambiato a settembre e che il percorso si completerà entro l'anno non sfugge ai più che questa appare una frenata più che un'accelerazione è stato condannato ad un anno ed otto mesi Marco Tronchetti Provera nel processo in cui l'ex presidente Telecom e numero uno di Pirelli è accusato di ricettazione vicenda che rientra nel più corposo capitolo dei dossier illeciti della security di Giuliano Tavaroli Un anno e otto mesi di reclusione la pena sospesa e 900 mila euro di risarcimento a Telecom Italia con questa sentenza la settima sezione penale del Tribunale di Milano accoglie le tesi dell'accusa nei confronti di Marco Tronchetti Provera l'ex presidente del gruppo Telecom accusato di ricettazione nella vicenda dei dossier illeciti il pubblico ministero Alfredo Robledo aveva chiesto due anni e una multa di 5 mila euro 6 milioni di euro invece il risarcimento chiesto da Telecom Italia che si era costituita a parte civile per i danni all'immagine provocati dal suo ex presidente la vicenda risale al 2004 anno in cui Giuliano Tavaroli all'epoca capo della security di Telecom Italia e Pirelli entrò in possesso di dati sensibili raccolti dalla Croll un'agenzia di investigazione internazionale in ballo c'era il controllo di Brasil Telecom e una guerra finanziaria e legale tra la società di comunicazione italiana e alcuni fondi di investimento brasiliani secondo l'accusa Marco Tronchetti Provera era a conoscenza dell'origine illegale di quelle informazioni Tavaroli aveva raccontato agli inquirenti di una riunione con lui e due avvocati dell'ufficio legale in cui si parlò anche dei dati acquisiti illegalmente contenuti in un cd una circostanza sempre negata con forza dall'allora presidente di Telecom che nelle dichiarazioni spontanee durante il processo ha anzi ricordato che non appena venuto a conoscenza dell'illecita provenienza del dossieraggio aveva denunciato tutto alle autorità italiane e a quelle brasiliane oggi il suo avvocato afferma che la sentenza è fuori sia dalla logica giuridica che dalla logica comune e che ha la sensazione che si volesse in tutti i modi coinvolgere Tronchetti l'ex presidente di Telecom è l'unico imputato rimasto in questo processo mentre Giuliano Tavaroli l'uomo chiave della Spy Story rivenuta alla luce nel 2006 ha patteggiato quattro anni si era concluso con sette condanne invece a febbraio il filone principale dell'inchiesta con al centro l'agenzia di investigazione privata di Emanuele Cipriani incaricata da Tavaroli di raccogliere informazioni su giornalisti e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo furono coinvolti anche militari della guardia di finanza e carabinieri oltre che agenti dei servizi segreti e prosegue l'inchiesta sul Mose di Venezia che ha portato la scorsa settimana agli arresti domiciliari Giovanni Mazzacurati l'ex presidente del consorzio Venezia nuove da altre sei persone nel mirino degli investigatori ora ci sono anche le sponsorizzazioni del consorzio tra cui quella della fondazione Vedrò creata dal premier Enrico Lette che ogni anno organizza incontri politici nella cittadina di Dro nel Trentino al vaglio delle fiamme gialle ci sono tutti i documenti per un normale controllo amministrativo questa dovrebbe essere l'ultima perquisizione della cosiddetta fase 1 la fase 2 si focalizzerà nel mese di agosto i primi di settembre i militari contano di avere un quadro completo della inchiesta e c'è ancora un dato pesante sul peso della crisi economica in Italia è un dato che proviene dall'Istat che parla di una crescita molto forte della povertà vera e propria in Italia alto è il numero dei cosiddetti poveri assoluti la povertà in Italia è in aumento preoccupante e porta indietro il paese al 2005 colpa della recessione economica che ha cancellato posti di lavoro e ha peggiorato la vita degli italiani secondo la triste fotografia scattata dall'Istat nel suo rapporto annuale i poveri assoluti in un anno sono cresciuti di oltre due punti percentuali erano l'8% della popolazione nel 2012 mentre l'anno precedente il 2011 si fermavano al 5,7% un fenomeno in crescita dunque che deve far riflettere perché passando dalle percentuali ai numeri reali gli italiani che vivono in assoluta povertà perché non riescono a sbarcare il lunario acquistando beni e servizi essenziali per la sopravvivenza sono 4.814.000 di cui circa la metà oltre 2 milioni risiede nel mezzogiorno numeri che crescono ancora se a questi che riguardano la povertà assoluta si aggiungono quelli sulla povertà relativa un termine questo che indica una situazione economica meno disastrosa ma comunque molto critica così conta l'Istat i poveri in totale in Italia sono 9,5 milioni di persone e rappresentano il 15,8% della popolazione la crisi lascia i suoi segni soprattutto sulle famiglie con figli piccoli il numero di quelle composte da coppie con tre bambini che vivono in povertà assoluta e cresciuto di 6 punti percentuali in un solo anno analizzando i numeri del rapporto sulla povertà dell'Istituto di Statistica si nota che a soffrire non sono solo le famiglie appartenenti ai ceti bassi oltre alle famiglie di operai e di lavoratori improprio la povertà è in aumento anche tra gli impiegati e dirigenti quella classe media che più di tutte contribuisce al fisco e che colpita dalla crisi si sta assottigliando un fenomeno che al tempo stesso è causa ed effetto del declino del nostro paese nel mirino dell'inchiesta Fonsai finisce l'intera famiglia Ligressi con ampi interessi economici nel paese crolla il titolo in borsa con l'accusa di falso in bilancio tre componenti della famiglia Ligressi Ionella Giulia e il loro padre Salvatore sono stati arrestati un quarto figlio Paolo risulta ricercato si troverebbe in Svizzera arrestati anche tre ex manager Il capo di imputazione riguarda l'ipotesi di farsi in bilancio relativo alla tenuta della valutazione delle riserve sinistri e l'altra imputazione riguarda l'aggiataggio informativo per importi significativi Sette ordinanze di custodia cautelare sono scattate oggi su richiesta dalla procura di Torino per gli ex vertici di fondi di Ariasai in pratica la famiglia Ligresti Il reato contestato è quello di false comunicazioni sociali arresti domiciliari per l'ex presidente onorario l'ottantenne Salvatore Ligresti e custodia cautelare in carcere per le due figlie Lionella e Giulia mentre il terzo figlio Paolo risulta ricercato I finanzieri sanno con le autorità alvetiche che attendono di sapere se intende rientrare in Italia e consegnarsi Gli altri manager coinvolti nell'ordinanza di custodia cautelare sono i due ex amministratori Fausto Marchionni ed Emanuele Erbetta oltre all'ex vice presidente protempore Antonio Tallarico L'inchiesta della procura di Torino su Fonsai è stata aperta la scorsa estate sulla scia di quella milanese su Premafin società del gruppo Ligresti ipotesi di reato falso in bilancio ostacolo all'attività di vigilanza in piedi operazioni a carico di Fonsai con consulenze e contratti di servizio per favorire imprese riconducibili ai Ligresti che avrebbero causato danni patrimoniali alla compagnia gli inquirenti avrebbero trovato un buco stimato in 600 milioni di euro nelle riserve sinistri informazione occultata al mercato che avrebbe portato gravi danni ad almeno 12 mila risparmiatori la società di assicurazione dallo scorso anno è sotto il controllo di Unipol intanto oggi nuove notizie arrivano su Ligresti anche da un'altra inchiesta quella aperta dalla procura di Milano sotto la lente l'ex presidente e commissario straordinario dell'ISVAP Giancarlo Giannini su cui si ipotizzano i reati di corruzione in concorso con Ligresti e di calunnia invece ai suoi danni secondo ricostruzioni di stampa Giannini sarebbe stata promessa da parte di Ligresti un'intercessione politica per ottenere una poltrona di prestigio all'antitrust in cambio sarebbero state evitate per un decennio le ispezioni su Fonsai quelle che ora fanno emergere il buco di bilancio quello di stamane è un colpo durissimo al cuore storico della finanza milanese la famiglia di Paternò nasce e cresce nel settore del mattone che non abbandonerà mai oggi è coinvolta nei più rilevanti interventi urbanistici di Milano a partire dall'Expo di Firenze e Torino vicina a Craxi viene coinvolta in Tangentopoli nel 1992 quando Salvatore Ligresti viene condannato per tangenti la famiglia si risoleva presto costruendo un impero economico e di relazioni a partire dal patto di sindacato di RCS editrice del Corriere della Sera poi Mediobanca il salotto buono è un e-credit da cui si è dimessa di recente oltre che il controllo del primo polo assicurativo per le RC Auto ora oggetto delle indagini a Grosseto il processo sul naufragio della Costa Concordia i difensori del comandante Schettino sono pronti a richiedere il patteggiamento sull'ipotesi di una condanna a 3 anni e 6 mesi quanto alle responsabilità di Schettino non ci sono dubbi l'unica cosa sarà vedere come verrà quantificata la condanna ha detto il procuratore capo di Grosseto Francesco Verusio torneremo su questo tema nel TG Cronache e adesso una storia drammatica una storia che viene dall'India dove 20 bambini sono morti in seguito a una gravissima intossicazione un vero e proprio avvenelamento per avere mangiato un pasto alla mensa scolastica una domanda a cui ora bisognerà dare una risposta è come ha fatto a finire nel pane nel riso nella verdura insomma nel cibo della mensa gratuita del villaggio di Jajaoli un così ingente quantitativo di veleno per esattezza un antiparassitario per uso agricolo 21 ragazzini in età compresa tra i 4 e gli 11 anni originari di Masrak nello stato di Bihar non hanno sopportato l'avvelenamento ed altri 30 combattono in un ospedale 10 di questi sono in gravi condizioni perché spiega il dottor Dubey del distretto ospedaliero di Ciapra anche una minima dose di questo veleno può causare la morte e le condizioni in cui i bambini sono arrivati in ospedale ha fatto subito pensare al peggio un'ingente quantità di organo fosforus dicevamo che i tecnici in arrivo da Patna principale città dello Stato cercheranno tra gli utenzi usati nella mensa piatti, pentoli, cucchiai nel tentativo di dare una spiegazione ad una tragedia assurda nella già assurda condizione di vita di chi abita queste terre lo conferma anche questo magistrato che aggiunge negligenza o no bisognerà trovare il responsabile nel diritto delle famiglie dei bambini famiglie che non hanno perso tempo nel mettere in piedi una protesta per le vie di Patna lo Stato del Biara è uno tra i più poveri dell'intero continente indiano territorio sconfinato dove ancora oggi sono 455 milioni gli esseri umani che vivono ben al di sotto della cosiddetta linea di povertà estrema da qualche anno nelle zone più disagiate in fatto di alimentazione il governo di New Delhi ha avviato un programma di mensi gratuite attivate nelle scuole i pasti vengono cucinati all'interno degli istituti ed è lì che andrà cercata la soluzione a quanto accaduto ed è morto oggi a Roma per una grave malattia lo scrittore sceneggiatore Vincenzo Cerami all'età di 73 anni Cerami è stato autore tra gli altri scrittore e sceneggiatore di La vita è bella pluripiramiato film di Roberto Benigni per il quale fu anche candidato all'Oscar nel 1999 lo ricorderemo tra brevissimo nel nostro Tg Cronache adesso il calcio perché continuano a sprombattuto le mosse e le tante contromosse del calcio mercato in particolare vedremo quelle messe in campo dal Napoli dopo l'uscita di Cavani 124 milioni e 500 mila euro da investire con precisione degna dei migliori cronografi svizzeri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha quantificato la cifra di cui dispone per mettere a segno i prossimi colpi di mercato un'autentica fortuna che la società partenopea utilizzerà in buona parte per porre rimedio alla partenza di Edinson Cavani l'asse Napoli-Madrid sta via via rafforzandosi dal momento che dopo aver prelevato Callejon De Laurentiis ha messo a segno il colpo al Biola per rinforzare la difesa e si appresta ad entrare nel vivo della trattativa per arrivare a Gonzalo Higuaina ex obiettivo della Juventus l'argentino piace ma costa anche se è lecito pensare che la richiesta di 40 milioni avanzata da Florentino Perez sia destinata a calare sensibilmente rimane viva anche la pista che conduce in Brasile a Leandro Damiao mentre come già detto è tutt'altro che tramontata l'ipotesi di uno scambio matriz-uniga con la Juventus intanto a Roma è arrivato l'olandese Strootman accoglienza calorosa e tante aspettative riposte nelle sue qualità tecniche ed atletiche la squadra di Garcia inizia ad assumere una propria identità sebbene in attesa di definire il passaggio di Marquinhos alla Paris Saint Germain rimangano ancora aperte le questioni riguardanti Osvaldo e De Rossi quasi certo che parte il primo molto meno scontato l'addio di Capitan Futuro al di là delle considerazioni sull'opportunità di lasciarlo partire pesa in termini di cessione il suo ingaggio di 6 milioni netti per i prossimi 4 anni intanto Sabatini sta assondando il Manchester United per verificare la possibilità di arrivare ad Evra e completare dopo l'ingaggio di Maicon una coppia di esterni difensivi non giovanissima ma di grande qualità l'intesa ritrovata in extremis con Pizarro rimanda alla prossima stagione il progetto della Fiorentina riguardante Verratti ceduto di fatto Jovetic al Manchester City i viol hanno deciso di trattenere gli AIC al quale verrà rinnovato il contratto in scadenza nel 2014 oggi infine sarà ratificato il trasferimento di Isla dalla Juventus all'Inter Facciamo una breve pausa per la pubblicità a tra poco Ben ritrovati in diretta allinea subito al TG Cronache e a Raffaella Di Rosa in sovrimpressione il nostro indirizzo internet io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti